Non ci saranno politiche diverse da parte di Bruxelles, bisogna investire in infrastrutture, si parla di centinaia di miliardi disponibili a livello europeo, basterebbe che ogni mese venissero investiti in infrastrutture in Italia, in Francia, in Germania, qualche miliardo l'Europa cambierebbe considerato, non è lo 01, lo 02, bisogna avere un piano di sviluppo dell'Europa, questo è determinante per il futuro dell'Europa.